Luca la restituisce, Elshia, 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 palla dentro per Boateng, Boateng si gira, Boateng viene a giocare, Boateng e Boateng si arrabbia. Boateng tira il pallone contro i tifosi della Propatria che lo beccano, non si può giocare a calcio in questa maniera, dovrebbero essere i giocatori della Propatria ad andare a parlare con i propri sostenitori. incredibile, incredibile, veramente incredibile, veramente incredibile. Boateng non gioca più, Boateng non gioca più e ci sono altri tifosi della Propatria che si dissociano, applaudono. Anche il Milan, il Milan si rifiuta di continuare a giocare, il Milan si rifiuta di continuare a giocare, Milan se ne va di fronte al razzismo, questa è la risposta. Davvero incredibile. Vediamo se è tutta la squadra che si rifiuta di continuare, sì i giocatori stanno uscendo dal campo e davanti agli insulti razzisti non c'è alternativa che fermarsi. Busto Arsizio si rende purtroppo per quattro idioti protagonista di una pagina vergognosa, c'è tante persone per bene che sono venute a vedere la partita, per quattro piccolini invece si ferma tutto e quindi di fronte al razzismo è giusto prendere questo tipo di posizioni. Era dall'inizio che venivano presi di mira i nostri giocatori di colore, adesso cerchiamo di capire se si tratta di una sospensione definitiva oppure se ci sarà modo di isolare, di cacciare dallo stadio questi deficienti per poter tornare a vivere una parita di calcio. Anche se mi rendo conto che ormai il clima sia completamente guastato e che sia difficile evidentemente tornare a proseguire. 27 minuti che non hanno dato indicazioni, che sono stati inquinati, contaminati dall'idiozia di quattro giovinastri che hanno voluto fare i fenomeni contro i giocatori di colore del Milan. Il resto dello stadio si dissocia, il resto dello stadio si dissocia. Vedete questi sono i protagonisti tristi. Eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua. Ecco, questa è la gentaglia che ha impedito oggi a Propatria Milan di dare vita ad un amichevole per il loro razzismo, la loro idiozia, inquadriamoli bene così capiamo di chi si tratta e evidentemente di che cosa sono capaci. Noi restituiamo la linea al canale, naturalmente vi informeremo sugli sviluppi del pomeriggio, si tratterà di una sospensione definitiva come a questo punto pensiamo. Se attualmente la parita dovesse riprendere, torneremo.